La Repubblica delle biciclette La Repubblica delle biciclette Professore, scusi, una domanda. Qual è stato il campione, quello più forte durante gli allenamenti? E poi in gara... Io mi ricordo che quando andavo incontro a Marino Amadori, lui partiva da Forlì. Io partivo da Solarolo e ci si incontrava sulla Via Emilia. Se non facevo presto, girare la bicicletta, non lo prendevo più, perché lui andava sempre dai 38 ai 41 all'ora. Era una roba impressionante, guarda, mi ha sfinito. Davide, forse tu ti dimentichi un corridore eccezionale. Eccezionale la partenza, perché poi più si va verso l'arrivo, meno va. È un mio amico, Stefano Pirazzi. Stefano Pirazzi, laziale, fortissimo a parole, convintissimo di vincere. Sempre una convinzione che poi, strada facendo, umanamente viene meno. La Repubblica delle biciclette 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 Grazie a tutti.